John Fitzgerald Kennedy e il sogno americano John Fitzgerald Kennedy, noto come JFK, è stato il trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America e una delle figure più carismatiche e influenti del ventesimo secolo. La sua presidenza, sebbene breve, è stata segnata da momenti di grande tensione internazionale e da significativi progressi sociali interni, che hanno contribuito a modellare l'ideale del sogno americano. Giovinezza e ascesa politica Nato il 29 maggio 1917 a Brooklyn, Massachusetts, JFK era il secondo di nove figli in una delle famiglie più prominenti e ambiziose d'America. Suo padre, Joseph P. Kennedy, era un uomo d'affari di successo e un politico influente che aveva servito come ambasciatore americano nel Regno Unito. La madre, Rose Fitzgerald Kennedy, era la figlia dell'ex sindaco di Boston, John F. Fitzgerald, e insieme hanno instillato nei loro figli l'importanza dell'educazione e del servizio pubblico. Dopo aver studiato alla Harvard University e aver servito con onore nella Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, JFK entrò in politica, venendo eletto prima al Congresso e poi al Senato degli Stati Uniti. La sua ascesa fu rapida e nel 1960 vinse le elezioni presidenziali, diventando il più giovane presidente eletto nella storia degli Stati Uniti. La presidenza e il sogno americano La presidenza di Kennedy è stata definita da una serie di sfide e successi. Il suo discorso inaugurale, con l'immortale frase di non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, ha catturato l'essenza del sogno americano, un appello all'azione civica e alla responsabilità individuale per il miglioramento della nazione. Durante il suo mandato, JFK ha affrontato la guerra fredda con fermezza e diplomazia. La crisi dei missili di Cuba nel 1962 è stata forse il momento più teso della sua presidenza, portando il mondo sull'orlo di una guerra nucleare. Tuttavia, la sua capacità di negoziare con l'Unione Sovietica ha evitato il disastro e ha aperto la strada a un periodo di distensione. Kennedy ha anche promosso il progresso scientifico e tecnologico, ponendo l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio, un traguardo che sarebbe stato raggiunto nel 1969, dopo la sua morte. Questo impegno nello spazio non solo ha rafforzato la posizione degli Stati Uniti nella corsa allo spazio, ma ha anche alimentato l'immaginario collettivo e l'ottimismo verso il futuro. L'eredità di JFK La tragica morte di Kennedy il 22 novembre 1963 a Dallas, Texas, ha lasciato il paese e il mondo in lutto. Il suo assassino è rimasto avvolto nel mistero e ha dato origine a numerose teorie del complotto. Nonostante la sua vita sia stata prematuramente interrotta, l'eredità di JFK continua a vivere. Il suo approccio progressista ai diritti civili, il suo incoraggiamento alla scienza e all'innovazione, e il suo stile di leadership ispiratore hanno contribuito a definire il sogno americano per le generazioni future. Il sogno americano di JFK era uno di opportunità, di progresso e di un futuro migliore per tutti gli americani. La sua visione di un'America unita, che lavora insieme per superare le sfide interne ed esterne, rimane un ideale verso cui molti ancora aspirano. La sua capacità di ispirare con le parole e di agire con coraggio ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia americana. Dalla leadership di JFK possiamo trarre alcune lezioni preziose. Carisma e comunicazione. JFK era noto per il suo carisma e la sua abilità di comunicare con il pubblico. La sua eloquenza e la capacità di ispirare gli altri sono insegnamenti importanti per i leader. Gestione delle crisi. La sua gestione della crisi dei missili di Cuba dimostra l'importanza di mantenere la calma, cercare soluzioni diplomatiche e coinvolgere esperti per risolvere situazioni difficili. Visione a lungo termine. Kennedy aveva una visione chiara per il futuro, come dimostra la sua sfida di portare un uomo sulla Luna. I leader dovrebbero avere una visione a lungo termine e lavorare per realizzarla. Coraggio e determinazione. JFK affrontò sfide complesse, come la lotta per i diritti civili e la corsa allo spazio. Il suo coraggio e la sua determinazione sono un esempio per tutti punto coinvolgimento dei cittadini. Kennedy incoraggiò il coinvolgimento attivo dei cittadini nella politica. I leader dovrebbero ascoltare e coinvolgere le persone che rappresentano. I leader dovrebbero rinsegnare a essere carismatici, gestire le crisi con calma, avere una visione a lungo termine, essere coraggiosi e coinvolgere attivamente gli altri. Gli aspetti controversi della presidenza di JFK includono. Crisi dei missili di Cuba, mentre la sua gestione della crisi è stata lodata. Alcuni critici sostengono che avrebbe dovuto agire in modo più aggressivo contro l'Unione Sovietica. Affari personali. JFK è stato coinvolto in relazioni extraconiugali, come quella con Marilyn Monroe, che ha sollevato domande sulla sua moralità e sulla sua idoneità come leader. Invasione della Baia dei Porci. L'operazione fallita a Cuba ha portato a critiche sulla pianificazione e sull'efficacia delle operazioni segrete. Degli Stati Uniti. Rapporti con la mafia. Alcuni sostengono che la famiglia Kennedy avesse legami con la mafia, ma le prove sono controverse e non conclusive. In sintesi, JFK è stato un presidente ammirato per molte ragioni, ma anche soggetto a critiche e controversie.